Per chi le vacanze le ha già finite e per chi invece le deve ancora iniziare, il Ferragosto ad Arezzo offre tante opportunità e per tutte le tasche. Per cominciare gli agriturismi distribuiti nella campagna aretina nelle quattro vallate che non aspettano altro che accogliere turisti e aretini in cerca di un po' di refrigerio. A proposito di refrigerio, le foreste del Casentino sono l'ideale, tra Camaldoli, Laverna e tante altre mete per gli amanti del verde e delle escursioni. Una fra tutte, quella alla croce del Prato Magno appena restaurata. Rimanendo in tema di trekking, le opzioni sono molte, dalla Valle dell'Inferno a Ponte Buriano, dai Monti Rognosi all'Alpe della Luna, il Sasso di Simone e l'Alta Valle del Tevere. Al camping del Piano Orlando nell'area del Parco di Caviglia si può anche campeggiare. E poi l'intramontabile Ferragosto in piscina, molte le strutture tra Arezzo e provincia che offrono anche animazioni particolari per il giorno di Ferragosto. E se proprio non volete allontanarvi troppo dalla città, l'opzione migliore è il barbecue a Lignano, storica meta degli aretini, oggi scoperta anche da molti cittadini immigrati per difendersi dal caldo. Come del resto anche le sponde dell'Arno, magari se possibile con un po' più di attenzione ai rifiuti che si lasciano in giro. Infine uno sguardo a sagre feste paesane che per questo Ferragosto animeranno ogni angolo della provincia. Dal Ferragosto Puggiolino alle Poggiola che andrà avanti fino al 25 con tanto di rievocazione storica del Saracino, al Ferra Hamburger, il primo hamburger festival completamente American style a Castiglione Fiorentino che andrà avanti fino al 18. Il 14 e il 15 a Cortona, imperdibile appuntamento con la bistecca Chianina. E poi ancora la sagra della pizza a Marciano, dei pici a Montesanzavino, degli gnocchi a talla, del fungo porcino a Moggiona, il 14, il 15 e il 16 di agosto. Insomma un tour gastronomico che sicuramente non lascerà insoddisfatti i palati. L'appuntamento più goloso anche per il portafoglio è quello a Ferragosto a Bibiano dove si mangia e si beve completamente gratis. Buon Ferragosto a tutti!